La CISL punta su un tema rovente come le pensioni per dare inizio a una sequenza di incontri formativi per i suoi quadri di Reggio Calabria. È l'inizio di una serie di iniziative per dare degli strumenti al nostro gruppo dirigente e non solo, affinché si possa avere contezza di quello che sarà il mercato del sistema pensionistico da oggi e per il futuro. Dare consapevolezza all'interno e all'esterno di una posizione della parte della CISL di confronto e di costruzione nel sistema paese e anche ai vari livelli di competenze istituzionali regionali e anche di città metropolitana. La volontà naturalmente è quella di tentare passo dopo passo di sbloccare un sistema pensionistico come la legge Fornero. Protagonista della prima iniziativa, l'esperta cislina di questioni previdenziali Valeria Picchio, armata di slide ed estrema chiarezza, affrontato intanto i paletti fissati dalla legge Fornero in tema d'età pensionabile e requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, poi le modifiche migliorative strappate al governo centrale in sede di concertazione, quindi i cambiamenti in itinere. Sono risultati importanti quelli che abbiamo ottenuto, si tratta del blocco dell'aspettativa di vita per alcune attività gravose, si tratta di una revisione del meccanismo di calcolare nel futuro l'aspettativa di vita e si tratta di poi continuare a avere delle commissioni di studio che continuino ad analizzare questi temi molto importanti, ma comunque la possibilità di avere un confronto con il governo presente e speriamo anche con quelli futuri per andare a modificare un sistema che è effettivamente troppo rigido. Mario Megliadò per la Cineus 24